Per chi non è soltanto un micofago ma un appassionato di funghi, quindi un grande appassionato di funghi, come distinguere un porcino nero, un boleto cereus, dalle altre specie? Allora, innanzitutto, spesso la cuticola si presenta bruna, marrone, marrone deciso, quasi a volte con riflessi tendenti al nerastro, se non addirittura proprio un nerognolo, e oppure colore cioccolato con chiazze, macchie, soprattutto nelle parti ombrose, che sono più beige, a volte addirittura fino allo schiarito, quasi fino al biancastro, dove è stato coperto, ma normalmente questi sono i suoi colori. Ovviamente vi è la presenza del reticolo sul gambo, come ogni, vedete del reticolo, eccolo là, con colore come ogni porcino, i pori sono bianchi, ovviamente in partenza poi diventano gialli, e poi olivacei a motivo della sporata, e soprattutto il gambo, che si presenta spesso in partenza obeso, assolutamente pieno, farcito di carne, si presenta con colorazioni sempre color cannella, a volte molto scure, fino addirittura al beige, però normalmente è color cannella il gambo, quindi non è mai un gambo bianco, non è però mai con colore alla cuticola, come avviene invece nel boletus reticolatus, nel porcino d'estate. Profumo molto gradevole, grato, aromatico, speziato, secondo me nessun fungo ha questo profumo, come i porcini emanano, il porcino nero soprattutto, che ricorda un po' anche la carne di maiale fresca, la setola di maiale. Boletus ereus, sotto cerro ritrovati questi, la sua principale pianta con cui fa simbiosi, guardate che bellezza questa coppia, e però si ritrova anche sotto castagno e sotto altre latifoglie, le eccio e poi cisto e eucalipto ed altre piante al sud. Meno frequente al nord Italia, è un fungo che ama i boschi termofili di latifoglie, assente sotto conifera. Questi andranno in una bella tagliatella e pisci con tipico toscano, sicuramente in un sugo bianco. Per la frittura sono preferibili questi esemplari qui, già un pochino grandi, ma soprattutto quelli più vecchi dove la sporata è già stata fatta. I piccoli sono migliori per prestarsi o sopra la carne, questi vanno benissimo sopra due fette di carne, sopra la bistecca, sono eccezionali, è un'altra destinazione che potrei fargli fare. I gambi soprattutto sono eccezionali, tagliati a dadini per farci un sughetto oppure un trifolo, ma nel trifolato è sempre meglio i gambi che le cappelle soprattutto, perché i cappelli tendono un pochino a essere squacquerellosi, soprattutto a tarda età. Ovviamente è un fungo commestibile anche crudo, ma crudo per molti resta indigesto e dà indisposizioni personali, quindi si consiglia sempre di cucinarlo. È crudo solo esemplare i freschi piccoli, soprattutto dell'edulis e del reticolatus, in modiche quantità e chi non l'ha mai mangiato ne assaggia un po', se non ha disturbi lo può mangiare anche crudo. Alla prossima, ciao! Ciao!